Ogni domenica il signor Raffaele ci farà la sua visita, oggi hai un ospite, è quasi un ospite domenicale, questo è il mio ospite domenicale, sono le castagne più buone d'Europa, quindi può stare tranquillo, merita ogni attenzione e considerazione. Il dottor Ciccio Annunziato è un amico fraterno di Berlusconi, ha detto che il presidente è quello che è. Non dimentichiamo che sarà anche un mio cliente il presidente Berlusconi, abbiamo delle foto recenti che testimoniano giustamente la mia rappresenta. A Roma ovviamente durante un evento abbiamo avuto il piacere di essere io ospito ovviamente là come calderostario a servire il presidente e tutti gli onorevoli, è stata un'esperienza veramente grande. Adesso serviamo il dottore Annunziata, il nostro grande dottore. Grazie mille. Ma queste castagne da dove vengono? Come dissi anche l'altra volta precedentemente, la provenienza di queste castagne è verso un bagnole e vino, è una frazione quasi vicino a Montella. E là troviamo il top delle castagne, perché ovviamente parliamo di un prodotto riconosciuto dalla comunità europea, ed è anche buono, dolce, differente degli altri. I castagni sono tutte buono, però diciamo la qualità, il sapore, le ammene pastose, quelle là della Grecia sono un po' più amarognole. Questa qua di Montella invece è una castagna buona, si spacca bene, si prende bene e si spuzza bene. Questi ormai siamo agli scocci della giornata per cui vedete una misera di castagne, però vi posso assicurare che l'ultima risultata è sempre più saporita. Grazie, grazie Raffaele amici a tutti quanti.